E' successo che il leader si è scocciato e ha detto, beh, io sapete che vi dico, rischio e non posso più astenermi dal dire come stanno le cose e dal tornare in campo, in piazza, da adesso, da questo momento, per dire la nostra verità, che è la verità vera, a tutti gli italiani. Oggi la procura di Milano ha depositato del ricorso in Cassazione sulla mia soluzione in appello per il famoso processo Rubi, cioè appena io do un segno di vita e dico, guardate che sono ancora qui, non sono stanco, ne ho messi sotto dieci, Grillo è l'undicesimo e vado avanti, subito, ecco, arriva l'uso di qualcosa che non è democratico. Quando io vado al sud trovo tantissime persone anziane che non hanno i soldi per andare da dentista, quindi implantologia dentaria gratuita, operazione alla catarata gratuita. Silvio, Silvio, Silvio! Silvio, 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 Silvio! Cubo! Grazie a tutti!